Buonasera a tutti, sono Ettore Ruggero di Artessa Academy e tra qualche minuto inizieremo il nostro webinar con Stefano Tulli che avrò il piacere di presentarti tra qualche minuto. Aspettiamo molti altri partecipanti che devono collegarsi, nel mentre vorrei ricordare qualche dato utile per seguire al meglio il nostro webinar. Avrete la possibilità di interagire con il relatore e far domande, oltre a quelle che qualcuno ha già fatto in sede di iscrizione, cliccando la manina che trovate sull'icona alla sinistra del pannello di controllo, pannello di controllo che vi chiedo di posizionare alla destra del vostro teleschermo, così da avere tutto lo spazio utile del vostro video per seguire il nostro video e soprattutto le slide che Stefano condividerà nella chiacchierata di quest'oggi. Dicevo, si può cliccare la manina in modo tale da poter intervenire e in ordine di priorità io darò la parola, quindi aprirò l'audio e vi chiederò di fare una domanda breve, un breve commento di interazione rispetto a quello che Stefano ci proporrà, a quello che è il tema di oggi. Se qualcuno vuol provare già ad utilizzare la manina, così anche mi dite se ci ascoltate, ci vedete correttamente, dovreste vedere me e già Stefano che è collegato, che saluto, buonasera. Stefano, buonasera. Così ci dite che ci ascoltate e ci seguite direttamente, dovreste già vedere una prima slide di Windering. E allora, se qualcuno vuol provare a cliccare la manina, abbiamo la possibilità di dare la parola. Provo a Marbella. Marbella ci sente, ci vede correttamente? Sì, sì, sì. Buonasera, ok, grazie. Allora, quindi poi potrà fare eventualmente delle domande cliccando come ha già fatto la manina. Claudio Cheirasco, vogliamo provare, ci ha chiesto di intervenire, proviamo. Claudio, buonasera, ci sente, ci ascolta correttamente, ci vede correttamente? Claudio? Proviamo qualcun altro, Entela Luna, vediamo se Entela ci ascolta e ci vede correttamente. Entela, buonasera. Claudio? Ah sì, vi ascolto. Benissimo, perfetto, grazie. E lo stesso Claudio? Claudio? Claudio, ci ascolta e ci vede correttamente? Non riusciamo a sentirlo, proviamo qualche altro partecipante. Abbiamo Francesca Giorgetti, buonasera Francesca, ci ascolta e ci vede correttamente? Francesca? Sì, vi sento. Francesca, buonasera. Buonasera. Tutto bene, allora ci può seguire correttamente? Sì. Bene, ok. Bene, aspettiamo ancora un paio di minuti in modo tale che molti altri si possano collegare, siamo veramente tanti stasera. Proviamo Maria Novella Uzielli, vediamo. Maria Novella ci ascolta? Sì, sì, vi sento bene, grazie. Correttamente, da dove ci segue? Dalla provincia di Grosseto, Paganico. Bene, grazie. Abbiamo, giusto per condividere con tutti quanti, persone da tutta Italia, poi vedremo se tutta Italia è interessata da questo fenomeno di enoturismo o meno, poi ce lo spiegherà meglio Stefano. Marina Martina Mittenberger, se ci ascolta e ci segue correttamente? Sì, salve, buonasera, perfettamente. Buonasera, e invece ci segue da? Rovereto, in provincia di Trento. Perfetto, grazie. E allora dopo, quando volete, state prendendo confidenza col sistema, quindi farà piacere avere tutte le vostre domande, le osservazioni. Tra l'altro i nostri webinar, per chi non li conosce, sono anche un'occasione di interazione, di fare rete tra chi è appassionato di turismo, di turismo esperienziale e vuole innovare e concorrere alla innovazione del settore turistico in Italia, con particolare riferimento all'incoming. Sentiamo ancora Roberta Peluso, se ci ascolta e ci segue correttamente. Roberta, buonasera. Roberta? Roberta, Roberta? Ok, passiamo a qualcun altro. Non abbiamo... Bene. Perfetto, io direi che allora possiamo incominciare e incominciamo ringraziando anzitutto il nostro relatore di oggi, Stefano Tulli, che avrà modo di presentare se stesso e l'azienda che Windering, che è una piattaforma online, come vedremo, ci spiegherà lui, proprio centrata sull'enoturismo esperienziale. Il tema di oggi, come voi ben sapete, appunto, è l'enoturismo in Italia e cercheremo di capire con Stefano le enormi potenzialità che ci sono e le opportunità che per il prossimo futuro chi si occupa del settore e chi lo fa valorizzando le risorse locali può ottenere oltre 60 milioni di visitatori negli ultimi anni in cantina. Ovviamente cercheremo di scoprire con Stefano chi sono i wine lovers, da dove vengono le persone che visitano le cantine, cosa fanno gli utenti e come fanno a scegliere tra le enormi offerte a enoturistica italiana, quindi cos'è che fa, cos'è che è più di appeal e cos'è che orienta maggiormente questi appassionati. Tra l'altro c'è Armanda Celebrano che chiedeva, questi wine lovers chi sono? Sono appassionati, neofiti di vino o sono professionisti? Beh, cercheremo di scoprire tutti questi temi con l'aiuto di Stefano a cui passo la parola ringraziandolo della partecipazione a questo nostro incontro. Grazie mille Ettore, grazie mille e buongiorno a tutti. Spero mi sentiate e spero che si veda la presentazione. Vediamo se... ok, adesso dovrebbe funzionare. Allora, grazie dell'invito di nuovo. Prima di introdurre un attimino il discorso legato a chi sono i wine lovers, cosa cercano, cosa stanno facendo, volevo darvi una breve introduzione del perché abbiamo creato wine ring, di cosa stiamo facendo noi e appunto su questa base capire poi perché determinate situazioni si stanno venendo a realizzare in ambito no turistico italiano. Innanzitutto, wine ring è stata definita in questi ultimi due o tre anni in vari modi, start up, piattaforma giustamente, tour operator, azienda innovativa, tutti questi termini sono giusti. Di fatto, quello che oggi è wine ring è un punto di incontro, di intermediazione nell'ambito no turistico. La parola, chiaramente, è un'unione di due termini, wine e wandering, e il progetto e l'azienda è stata creata nel 2015, quest'anno festeggiamo tre anni dall'apertura. L'idea, in sé per sé, non è nata da una casualità o da un'esigenza necessariamente personale, ma da un problema che noi abbiamo riscontrato lavorativamente parlando. Questo perché, per quanto riguarda il mio background, ho sempre lavorato nell'ambito del turismo, rappresentando in passato alcune destinazioni degli Stati Uniti, con un tour operator specializzato in centro Italia, in quanto, non so se dall'accento si percepisce, ma ho un accento molto marchigiano, e quindi diciamo che la nostra sede del tour operator di base specializzato appunto in centro Italia è ad Ascoli Piceno. Windering, nato però nel 2015 da questa situazione. Faccio una notazione subito. Tutte le slide che vedrete in questa presentazione sono in inglese, e non è casuale. Sono in inglese perché Windering non è un tour operator esclusivamente specializzato in Toscana, nelle Marche o in Australia. è una realtà che è specializzata su un prodotto, che è il mondo del vino, a livello internazionale. Per quanto riguarda l'idea, appunto che brevissimamente vi spiego, noi eravamo con un gruppo di clienti in Napa Valley, quindi in California, non so chi di voi c'è stato, ma la Napa fondamentalmente è una strada di circa 90-100 km all'interno della quale in tre città, Napa, appunto, Yantville e Calistoga, ci sono oltre 500 cantine. Noi in una giornata a disposizione volevamo visitare delle realtà, e per questo abbiamo fatto quello che facevano tutti. Quindi abbiamo cercato su TripAdvisor, su Facebook, su Yelp, su Google Maps, su VisitNapa Valley. Tutti questi strumenti però davano delle informazioni utili, ma molto generiche. Google Maps ovviamente faceva riferimento alla localizzazione degli orari di apertura, Yelp parlava soprattutto di recensioni legate al mondo del vino, quindi a che tipo di vino veniva venduto, ma non mi dava informazioni legate all'esperienza. Stesso discorso per Facebook, e TripAdvisor invece, ad esempio, interveniva per quanto riguarda tutte quelle esperienze che includevano anche ristorazione o pernottamenti in cantina. Ma nessuno di questi strumenti mi diceva esattamente perché io che mi trovavo in Napa Valley potevo scegliere una piuttosto che l'altra cantina, chiaramente per poter vivere una bella esperienza. Per questo motivo io ho fatto l'unica cosa che si può fare in questi contesti, quindi contattare un mio amico che vive e soggiornava in quell'epoca in Napa Valley e mi ha dato un suggerimento di un luogo da visitare. Tra parentesi, ve lo consiglio di annotare, si chiama Castello di Amorosa, che è un nome italiano ovviamente, perché Castle of Love non era bello secondo il proprietario, ed è una realtà di oltre 110 sale degustazioni, quindi stiamo parlando di una cantina immensa. Io ho prenotato e ho fatto questa esperienza e mi sono trovato molto bene. Torno a casa in Italia, ho un gruppo di americani in Toscana, ho la stessa situazione, intorno alla provincia di Firenze, adesso non dico il numero esatto, ma ci sono oltre 100 cantine da poter visitare, in base a quale parametro, se non la conoscenza diretta, posso scegliere la cantina da trovare. Per questo decidiamo di aprire con il mio socio Dennis, Windering, che da una parte nasce con l'obiettivo di aiutare persone appassionate di vino, come ero io in quel caso con il mio gruppo di clienti e di amici, per poter trovare cantine in tutto il mondo, e avere un sistema di produzione molto facile e immediato, dall'altra parte stiamo intervenendo per poter supportare e aiutare cantine, e poi vedremo più avanti, anche destinazioni, ad avere una migliore visibilità online per quel target di clientela ben specifico. Per chi l'ha già visto, per chi lo vuole vedere, il sito è online da oltre due anni, è una piattaforma che permette di prenotare visite in cantina, abbiamo in questo momento oltre 5.000 cantine in tutto il mondo, con più di 350 attività e in realtà ne dovremmo riuscire a inserire entro la fine dell'anno altre 300. È tutto in fase, chiaramente, in divenire, compreso il sito. Il sito continua a subire, chiaramente, essendo startup, continue variazioni per rendere il sistema di produzione il più facile possibile. Come vedete, questo ad esempio è il caso dell'Italia, il cliente può trovare le cantine in base a due parametri, la geolocalizzazione e le recensioni, e poi effettuare il processo successivo. Qui introduco già un aspetto, anche in questo caso, questa foto, questo screenshot che voi vedete della cantina alla lastra, che è una di quelle che sta ricevendo maggiori prenotazioni tramite il nostro sistema, è un'esperienza che, come vedete, sulla destra, non è la degustazione a 10 euro o 5 euro, è un'esperienza che è destinata a un target con una capacità di spesa medio-alta. Qui si parla di 65 euro a persona, ad esempio, con visita in cantina e pranzo privato, e chiaramente degustazione. Ora, perché questa esperienza viene venuta molto sul web, sul nostro sito perlomeno? Da una parte, perché, ovviamente lo vedete già, le immagini di sé per sé sono molto affascinanti, dall'altra, l'esperienza è spiegata molto bene, perché la cantina ha inserito molto bene le informazioni, e terzo, perché comunque ha un costo che, da una parte, elimina tutti coloro che viaggiano sul web, cercano esperienze e poi non prenotano nulla, e dall'altra, appunto, si rivolge comunque a un'utenza che è interessata a scoprire determinate realtà particolari, in questo caso nella zona di Siena. Come vedete, il sistema di prenotazione è molto facile, la cantina prevede un minimo di due persone, quindi già il web permette di prenotare con un minimo di due packs. Tutto è fatto tramite richiesta di disponibilità, quindi il sistema permette alla cantina di ricevere un'email, noi mandiamo un messaggio, un'email e telefonata, e la cantina può confermare. Ora, perché tutto questo sistema è nato e sta piano piano crescendo e prendendo piede? Perché, come vedete da queste indicazioni, negli ultimi due anni noi abbiamo studiato libri, studi, riviste come Moine Spectator, e abbiamo tirato giù delle analisi, dei dati, dei numeri che confermano la nostra tesi. Come vedete da questi dati, infatti, e come già anticipava prima Ettore, oltre 60 milioni di visitatori tra il 2016 e il 2017 hanno visitato una cantina a livello internazionale, quindi non parlo di 60 milioni di visitatori in Italia, ma 60 milioni di visite in cantina in tutto il mondo, che ovviamente è un dato già di per sé visto in maniera riduttiva. Pensate a tutti coloro che vanno a visitare cantine, banalmente, in Italia, e non effettuano registrazioni, non vengono segnati, non vengono calcolati. Quindi chiaramente il numero può essere rivisto in maniera molto più importante. Moine Spectator, in questo articolo, ci dichiara anche che il 50% di quelle persone hanno effettuato prenotazioni tramite sistemi online. Quindi, vedendo le cantine sul web, contattandole via mail, prenotando direttamente, in alcuni casi, dai siti delle cantine, o da portali come il nostro. Chi è il target, in questo caso, al quale fa riferimento Wine Spectator? Che, lo saprete, immagino, è probabilmente la rivista più importante nel settore enologico a livello mondiale, e si rivolge soprattutto a una cantina anglofona, quindi parlante inglese e tendenzialmente nordamericana. Il reddito medio delle persone che fanno viaggi in cantina, secondo questa loro interview, questo sondaggio, ha un reddito medio annuo di 180.000 euro. Questo parametro è molto importante, perché se voi cercate sul web, troverete che, ad esempio, l'household income, quindi il reddito medio, di un utente che visita e viaggia su TripAdvisor, ad esempio, è di 70-75.000 euro. Quindi sono due mondi completamente diversi. Su questa base, noi abbiamo costruito la nostra realtà. Quindi abbiamo creato una piattaforma che in tre anni sta cercando di raggiungere un'utenza possibilmente specializzata e appassionata del mondo del vino, disposta a spendere delle somme che appunto non siano necessariamente 5 euro, ma abbiano interesse a scoprire qualcosa di più interessante. Tutto chiaro fino a qui? Penso proprio di sì. Se c'è già qualcuno che vuole interagire, magari cominciare a prenotare un intervento, così poi siamo celeri. Nel frattempo io chiederei a Stefano di entrare nel vivo della tematica e quindi di aiutarci a scoprire di più chi sono i wine lovers e appunto da dove vengono e già è iniziato a introdurre molto efficacemente qual è il profilo dal punto di vista delle potenzialità di spesa, delle potenzialità economiche che quindi determinano un mercato di tipo medio-alto che di per sé probabilmente costituisce appunto coloro che sono amanti di questo tipo di prodotto. Vai Stefano. Grazie. Ecco quindi questo slide che già è molto importante insieme alle successive. Come vi dicevo prima, chi è il turista wine lover? Chi è la persona che sta prenotando e sta effettuando visite in cantina? Come vi dicevo prima, un'analisi demografica ve l'ho già individuata, quindi clienti medio-altospendenti che cercano un tour online, fondamentalmente quindi sul web, e che hanno un'età media, e questo è molto importante, che va dai 22-20 anni fino ai 60. Perché questo? Perché stanno prenotando e continuano a prenotare e a cercare visite in cantina sia millennial, che attenzione, non sono millennial che sono clienti di cantine o di hotel in low cost, ostelli, b&b, sono clienti che hanno una disponibilità di spesa anche in questo caso medio-alta. Dall'altra parte, ovviamente, anche gli utenti più esperti, quindi clienti di 40, 50, 60 anni, sono persone che ovviamente hanno una conoscenza del prodotto molto più elevata e quindi richiedono delle esperienze più formative. Questo è già molto indicativo. Da una parte abbiamo millennial che sono disposti ad accogliere i nostri suggerimenti, quindi le nostre suggestion, i nostri itinerari, in quanto si affilano al nostro know-how, perché hanno la possibilità di poter vedere tramite web tutto quello che vogliono andare a scoprire. Dall'altra parte, ci sono persone invece di un'età medio-alta che hanno una conoscenza del prodotto più importante, quindi del vino, ma una minore conoscenza della destinazione, quindi una minore conoscenza di un territorio, proprio perché molto spesso non hanno tutti quegli strumenti web che invece i millennial possono vantare. Non è necessario che il cliente sia un wine lover, ovvero noi siamo partiti con l'idea di dire ci rivolgiamo esclusivamente a persone che hanno il terzo livello di sommelier o che fanno parte di wine club o che sono espertissimi di vino. No, ovviamente lavoriamo anche con loro, ma lavoriamo tantissimo anche con queste persone che, come indico poi sotto, si affidano al nostro know-how. Questo perché? Perché in realtà quello che conta nell'ottica di un cliente, wine lover o meno, è la destinazione stessa. Se un utente ha prenotato, io torno a fare l'esempio della Toscana, ma potremmo farlo in Italia praticamente in tutte le regioni, se io ho prenotato un weekend a Firenze, che io sia millennial o sessantenne, so che Firenze è in una zona famosa per il vino. So che se prenoto Verona sono in una zona famosa per, ad esempio, la Marona. Ed allora, andando a visitare quella destinazione, anche se non parto per poter scoprire soltanto le cantine di quel territorio, comunque un'esperienza di quel tipo la voglio fare, perché sono in quella realtà. Con la consapevolezza di voler appunto scoprire non solo una cantina, ma un intero territorio. Importantissimo ovviamente il discorso legato alla lingua. Chiaramente English speaking, la lingua anglofona, è la base perché sono utenti che sono, come vi dicevo prima, molto spesso internazionali. quindi sono comunque persone aperte a parlare una seconda lingua oltre la loro e quindi tendenzialmente l'inglese. E questo è un altro elemento molto importante, sono persone che effettuano prenotazioni sia last minute, noi ieri abbiamo ricevuto una prenotazione per domani, ad esempio, in Piemonte, sia persone che invece vogliono che venga costruito un itinerario legato al mondo wine molto più dettagliato tagliato e con molto tempo di anticipo. Questa divisione evidentemente fa riferimento a quello che indicavo sopra, ovvero i clienti che sono altamente professionalizzati sul mondo del vino vogliono che venga fatto un itinerario, un percorso, un'esperienza, una visita costruita nel singolo dettaglio, vogliono sapere che vino vanno a bere, vogliono sapere tutta la storia legata al prodotto. Dall'altra parte, per le richieste last minute, ovviamente, facciamo molto spesso riferimento a quei clienti che stanno soggiornando in determinate destinazioni e appunto vogliono visitare delle cantine. FIT individuali non non è semplice o meglio diciamo che è molto più immediato il wine lover che lavora e che scusate che effetto a prenotazioni per lui, per lei o per una coppia o per un piccolo gruppo di amici. È difficilissimo che un gruppo di amici di 30-40 persone vogliono andare in una destinazione e quindi possa effettuare poi prenotazioni ad esempio online. Il turista online è un turista individuale. Questa è un'anteprima di uno studio che stiamo portando avanti da un anno e che molto probabilmente sarà pronto per fine anno o comunque al massimo a gennaio quindi sono molto contento di condividerlo con voi che è un'analisi delle differenze che stiamo riscontrando nel nostro rapporto di esperti nell'ambito e nel turistico nel momento in cui ci interfacciamo con cantine italiane e nel mondo. L'analisi è molto semplice facciamo riferimento a un esempio di mail di presentazione che noi mandiamo per richiesta di collaborazione con quella determinata realtà. Bene, le cantine australiane sudafricane neozelandesi prendete chiaramente andremo poi nel dettaglio in questa presentazione ma di tendenza cantine internazionali hanno un 20% di tasso di risposta su 100 mail che mandiamo 20 cantine rispondono in Italia 5. Una volta che noi mandiamo una mail le cantine internazionali ci rispondono entro 24-48 ore in Italia tendenzialmente sono necessari 3-4 se non 5 giorni di solito noi riceviamo risposta da un hospitality manager in tante cantine internazionali in Italia molto spesso l'attesa è legata al fatto che il titolare della cantina è il well maker appunto il produttore quindi è anche colui poi che manda e risponde alle mail quindi chiaramente non può far tutto le cantine ci rispondono con dei programmi dove abbiamo dei tariffari netti pubblici delle descrizioni accurate un sito che ha una pagina dedicata all'enoturismo rimandi ad attività di social media ecco tutto questo nel caso di cantine italiane è molto più difficile e infine molto spesso le cantine internazionali sono molto più aperte o comunque già hanno una conoscenza del mondo dell'intermediazione e quindi sono molto più disponibili a poter parlare con Turo Peretro ora prima di passare a questa slide faccio un passo indietro e ritorno qui per rispondere a quello che avevo cercato di costruire in questa prima fase di presentazione spero di aver intanto spero di avervi indicato più o meno chi sono i one lover ai quali facciamo riferimento sono ragazzi giovani adulti quello che cercano nella realtà dei fatti è una cantina un territorio che possa offrirgli un'esperienza che sia veramente unica non basta avere a disposizione un panorama di 5 cantine in un territorio in cui ci limitiamo a dire in un tour di un giorno faremo due visite in cantina berremo quattro vini e assaggeremo sei etichette sto dicendo chiaramente elementi simbolici è necessario spiegare che cosa si andrà a fare chi sarà la persona che accoglie i clienti qual è il motivo per il quale va visitato quella cantina molto spesso noi stiamo lavorando con destinazioni territori e cantine con i quali andiamo a fissare un appuntamento andiamo a conoscerli incontriamo la realtà facciamo chiaramente un esempio di degustazione per vedere come funziona e noi suggeriamo e vediamo degli aspetti che la cantina dà per scontato che invece sono fondamentali botti antiche un metodo un quarta quinta generazione familiare tutti questi elementi che noi diamo molto spesso per scontato sono un valore aggiunto enorme per il cliente straniero che come detto appunto ha come avevamo noi nella nostra situazione in Napa Valley lo stesso problema non può avere la conoscenza di tutte le cantine italiane perché ce ne sono migliaia e di queste migliaia tantissime offrono 5 calici di vino e allora perché io devo scegliere una piuttosto che l'altra realtà stefano puoi darci qualche indicazione su quali sono le provenienze dall'estero più interessate al mercato del certo allora e poi partiamo con fare un paio di sondaggi così poi hai modo di commentarli bene allora in realtà questo è molto interessante come dato perché chiaramente dal punto di vista della nostra azienda noi abbiamo approcciato il lavoro molto spesso con mercato anglofono quindi tendenzialmente direi nordamericano in realtà dal sondaggio che abbiamo portato avanti con queste cantine e che ci sta continuando a dare risultati in questi mesi stiamo vedendo come la domanda sia molto eterogenea io non avrei mai detto mea culpa su questo ad esempio che uno dei mercati più interessanti era appunto il mercato del sud-est asiatico quindi non solo chiaramente i milioni di cinesi ma anche destinazioni realtà che rientrano appunto in tutti questi territori quindi del sud-est che sono interessati a questo prodotto a questi prodotti al vino sono interessati a vivere queste esperienze chiaramente su ciascuna realtà l'approccio della cantina e l'offerta è diversa mi spiego meglio se fate una richiesta di se fate una domanda alle cantine ad esempio del Veneto o del Trentino mi diranno che ovviamente molto spesso i clienti più importanti sono i clienti parlanti lingua tedesca svizzeri austriaci germania perché geograficamente chiaramente sono molto più vicini ma lo stessa risposta la danno anche molte cantine pugliesi perché ad esempio molto spesso i tedeschi comunque queste persone vengono in vacanza anche spesso in vasta stagione al mare e poi fanno questa esperienza quindi in realtà l'eterogenità è molto importante da questo punto di vista ed è per questo che ho tenuto a sottolineare il fatto che almeno è necessario l'elemento di English speaking perché chiaramente noi abbiamo anche dei clienti ad esempio svizzeri che effettuano prenotazioni che pretendono cantine parlanti lingua tedesca perché loro l'inglese non lo parlano quindi molto spesso non è semplice far riferimento a queste esigenze da parte nostra rende più semplice la ricerca perché su dieci cantine sette non parlano tedesco noi andiamo a lavorare con le tre che parlano tedesco ma diciamo che la provenienza appunto è estremamente eterogenea Nord America Nord Europa e Sud Est Asiatico direi che sono i tre i tre mercati in quest'ordine appunto primo Nord America secondo Nord Europa e terzo Sud Est Asiatico che stanno effettuando più prenotazioni ripeto perlomeno nel nostro nel nostro caso grazie Stefano e penso che anche un aspetto su cui dobbiamo riflettere insieme è quello della professionalità e della quindi professionalizzazione degli operatori di primo contatto degli erogatori dei servizi nelle diverse cantine e qui c'è c'è tanto da fare mi fai mi fai capire che c'è un lavoro di qualità da fare che ci aspetta nei prossimi anni io avvierei un paio di sondaggi potete cliccare vedete qui un primo vi chiede se siete interessati a realizzare proposte di turismo esperienziale nel settore enogastronomico potete rispondere a una ovviamente delle seguenti domande in maniera molto veloce se potete cliccare la risposta va a voi più confacente in modo tale che poi possiamo anche commentare il dato con il nostro relatore che quindi magari ci potrà dare qualche suggerimento e qualche dritta io ricordo sempre che l'obiettivo dei nostri webinar è quello non solo di condividere idee e la conoscenza come voi sapete è l'unica risorsa che se viene condivista si moltiplica ma anche il fare rete quindi noi ci auguriamo che l'esperienza che ci è stata posta oggi sia anche un punto di riferimento per chi vuole operare nel settore chi vuole collaborare anche con lo stesso Stefano o comunque anche tra di voi rispetto a quello che ci andremo a dire vi chiedo cortesemente di votare nella maniera più veloce possibile perché tra qualche secondo chiudo il sondaggio c'è ancora qualcuno indeciso vediamo un pochino beh chiudiamo adesso il sondaggio e allora condividiamo insieme i risultati il 14% della nostra audience che è anche variegata Stefano sono dai tour operator a chi si occupa di guide di accompagnatori di turismo come guida o accompagnatore turistico piuttosto che altri interessati a lavorare nel mondo del turismo sì mi piacerebbe ma non ho le competenze sì mi piace ho le competenze ma non so cosa fare anche una buona percentuale ci sono altri eventualmente che hanno altri interessi altre professionalità ma visto che ci siamo prendiamo confidenza con le votazioni vediamo quale può essere una risposta quali sono le difficoltà per avviare potenziare le attività di incoming ed eventi esperienziali nel vostro territorio potete anche rispondere a più di una delle risposte avvio il sondaggio e quindi vediamo poi di continuare la chiacchierata con Stefano sulla base di queste vostre utilissime indicazioni io vi ringrazio molto della collaborazione della partecipazione di oggi e vediamo allora potete scegliere ricordo più di una risposta e vediamo un pochino il sondaggio che restituzione ci dà e abbiamo visto già da Stefano che uno dei temi è quella della formazione della qualificazione degli operatori soprattutto nella nostra Italia abbiamo un prodotto magari eccezionale ma purtroppo non lo sappiamo comunicare vedi il tema delle lingue oltre che comunicare poi in termini in chiave di marketing secondo le descrizioni di prodotto dettagliato a cui Stefano faceva riferimento ancora qualche secondo chiudiamo il sondaggio vediamo qui i risultati grazie ancora dell'impegno e della collaborazione condividiamo insieme i risultati Stefano sono delle indicazioni molto interessanti ti chiederei di commentarne anche su questo secondo sondaggio lo scarso interesse delle istituzioni il 32% spicca la difficoltà a collaborare a fare rete nel territorio perché come accennava Stefano il nostro prodotto è un prodotto di sistema turistico come diceva giustamente tanti tedeschi vengono in Puglia per scoprire la Puglia e se c'è un'offerta qualificata di enoturismo ovviamente sono molto interessati la poca promozione turistica un 32% mancano le competenze un 35% bene grazie ancora a voi della collaborazione a te Stefano grazie per aver risposto a queste domande che non fanno altro che confermare tutto quello che stiamo facendo e su cui stiamo ragionando da mesi quindi è brutto da dire ma sono molto contento di queste risposte perché chiaramente insomma ci danno conferma di tutte queste analisi parto da quest'ultimo punto cioè parto dalle difficoltà per avviare potenziali attività di incoming e esperienziali nel territorio allora sono d'accordissimo sul discorso della poca promozione turistica basti pensare che di recente alla fiera di Londra World Travel Market noi eravamo probabilmente l'unico paese a non offrire negli stand italiani delle degustazioni vere e proprie ma all'interno di una piazza centrale che era stata costruita c'era la possibilità di assaggiare caffè biscotti e dei cocktail ma ad esempio in Israele c'era un wine tasting in Slovacchia c'era un wine tasting e così via Cile Perù quindi c'è poca promozione perché probabilmente e mi faccio di nuovo riferimento invece all'altro punto c'è spesso scarso interesse nelle istituzioni per evitare o meglio per superare questo discorso delle istituzioni alle quali molto spesso non interessano neanche i numeri e questa cosa è inspiegabile perché dati alla mano questo settore del turismo dell'enoturismo è incredibilmente importante se non fosse altro perché fa riferimento a un target come dicevamo prima alto spendente quindi purtroppo anche noi spesso abbiamo discusso con le istituzioni dall'altra parte la soluzione di tutti questi due problemi è appunto questo fare rete nel territorio che è un problema molto grande come molti di voi la maggioranza ha indicato nella realtà di fatti quello che noi stiamo vedendo è che stiamo riuscendo a creare delle forti reti e collaborazioni nei territori in cui lavoriamo tramite vere e proprie azioni di supporto economico mi spiego meglio innanzitutto mi ricordo che quando noi abbiamo mandato le mail alle cantine in tutta Italia per presentarci meno di quel 5% che vi ho detto prima ci hanno dato risposta perché nessuno era disposto a lavorare insieme ad avere idea di come poter creare una rete adesso dopo tre anni sono loro che ci scrivono per poter entrare all'interno della piattaforma quindi questo che cosa significa che evidentemente c'è comunque un timore da parte di alcune realtà a poter fare rete perché non sono aperte dall'altra parte quando si smuove però qualcosa all'interno di un territorio poi sono tutti pronti a poter collaborare perché si rendono conto del guadagno economico che c'è dietro perché alla fine ripeto è tutto meraviglioso ma è tutto meraviglioso perché fondamentalmente c'è un grossissimo bacino d'utenza e del gran business da fare dietro dall'altra parte come vi dicevo noi adesso stiamo iniziando ad esempio a collaborare questo può essere un suggerimento anche per quelli che lavorano nei territori a lavorare con tutti con le strutture ricettive noi stiamo selezionando alcune con le quali stiamo lavorando su un discorso sinergio di collaborazione ad esempio di Hyperlink banalmente ma anche di vera e propria promozione hotel che si trovano in zone vitivinicole che suggeriscono ai loro clienti perché poi questo succede i clienti chiedono dove andare a pisare le cantine alle strutture ricettive ecco noi diamo dei supporti per poter ad esempio nel nostro caso suggerire di utilizzare la nostra piattaforma e avere dei guadagni reciproci delle commissioni appunto dei ricavi aggiuntivi dall'altra parte l'altro discorso per una realtà meno territoriale come la nostra perché ci occupiamo di tutto il paese è quella di fare rete con DMC tour operator in cammin di un territorio io non sono minimamente a conoscenza delle specifiche ad esempio della zona vitivinicola non lo so delle langhe del Roero perché ci sono state poche volte non ho questo know-how ci sono di tour operator in cammin specializzati in quelle zone ed è con loro che dobbiamo andare a costruire delle reti in un territorio più piccolo mi viene da dire bisogna partire noi nel mio piccolo nel territorio dove siamo cresciuti dove siamo nati che è il Piceno abbiamo provato a mettere insieme delle cantine a fare delle riunioni con delle guide degli accompagnatori dei fornitori di servizi degli NCC degli hotel ci hanno risposto in dieci perfetto siamo partiti e adesso le altre cantine ci stanno seguendo quindi secondo me il vero problema è che questo discorso del non far rete è verissimo bisogna iniziare a lavorare perché di offerta ce n'è tantissima non risponde un hotel in un territorio ce ne saranno centinaia non risponde una cantina decine e così via per fare un altro ed ultimo sondaggio dopodiché così puoi completare la tua comunicazione e partiamo con le domande già c'è qualcuno prenotato ma vi chiederei di prenotare così poi siamo nei tempi per concedere a tutti la parola abbiamo questo sondaggio che vi chiede proprio di indicarci se nel territorio a cui appartenete ci sono agenzie viaggio turoperetto specializzati nell'offerta di Wine Passion ovviamente potete fare una risposta di queste e vediamo un pochino cosa viene fuori come già ci anticipava il nostro relatore si tratta di avere una testardagine e una costanza nell'attivarsi e nel fare rete sul territorio perché questa è l'unica cosa che poi alla lunga può dare risultati vediamo ancora qualche secondo per le vostre risposte sarà interessante quindi poi capire con Stefano la capacità di offerta che hanno le agenzie viaggio di turoperetto nei nostri territori se è un'offerta povera come in molte occasioni in molte parti d'Italia c'è quella a cui faceva riferimento delle visite a qualche euro che non offrono più di tanto se invece riescono a far vivere delle esperienze a persone effettivamente interessate a poterle vivere e a conoscere a fondo le culture locali chiudo il sondaggio vediamo le risposte e a te Stefano quindi la parola c'è un 45% che ci segnala che ci sono tour operator specializzati e un 36% dice che no e ci sarebbe molto mercato e quindi se puoi completare il tuo speech anche magari facendo tesoro di queste utili informazioni dei nostri partecipanti bene mi fa molto piacere che vedrete nessuno ha detto una maniera di cliccare e di di prenotarvi per le domande grazie mi fa molto piacere che nessuno abbia detto perché non c'è domanda turistica questo è una cosa molto importante beh anche questo effettivamente è un dato importantissimo ci sono delle realtà come voi voi stessi hai detto che sono molto specializzate nell'offerta a vino e noi con molte di queste stiamo lavorando per il motivo che vi dicevo prima perché chiaramente noi possiamo fare da megafono passato il termine per poter collaborare al meglio l'altra cosa molto importante però è che in alcuni casi che noi abbiamo visto con i quali stiamo lavorando alcune realtà sono specializzate nell'aspetto wine ovviamente ma ad esempio abbiamo avuto difficoltà all'inizio non più adesso di creare dei percorsi altamente specializzati invece quindi altamente professionalizzati cosa che adesso sta piano piano migliorando ci sarebbe molto mercato e la risposta no mi fanno capire che significa che c'è spazio per realtà che invece vogliono crescere lì che può essere un nuovo business da sviluppare e a me fa solo che piacere perché chiaramente significa che stiamo andando sulle direzioni giuste perché ripeto è un settore che è in un boom incredibile e attenzione mi fa molto piacere che ad esempio questa domanda sia stata fatta con la definizione di offerta wine passion perché una cosa che non ho detto prima e che per me invece è molto importante e ci tengo tantissimo è che quando io parlo di turismo di enoturismo di wine tourism se ci avete fatto cosa non ho mai utilizzato la parola food and wine è chiaro che l'aspetto food calza a pennello perché corrisponde perfettamente alla degustazione di vini e formaggi è un esempio ma in realtà una persona che è appassionata che esso sia che sia wine lover che sia terzo livello sommelier non va in una realtà in una cantina necessariamente a fare soltanto una cooking class in cui poi può assaggiare i vini di accompagnamento è il contrario vuole fare un'esperienza di vino nella quale poi può combinare dei prodotti del territorio quindi questo mi fa molto piacere perché ripeto a noi interessa poter collaborare sempre di più con persone realtà società che abbiano quest'ottica lo vedrete sul nostro sito ad esempio sono pochissime le realtà che offrono cooking class e poi degustazioni perché non interessa oltre al fatto che c'è un mercato già molto più avanti di noi da quel punto di vista quindi noi ci stiamo specializzando su quello e mi interessa molto poter formare una rete da questo punto di vista che sia specializzata in questo spero di aver risposto Ettore grazie ancora qualche minuto allora per completare la tua comunicazione di oggi così passiamo alle domande ricordo chi altro vuole vuole iscriversi io mi ho raccolto già qualche domanda poi darò la parola direttamente a chi ha alzato la malina quindi ricordo di farla possiamo qualche altra persona possiamo accettarla grazie ok io se vuoi chiudo la mia la mia presentazione con questa slide del profilo delle cantine italiane che chiaramente poi si può tranquillamente tradurre anche in territori con questa analisi SWOT semplicissima è evidente che tre punti di forza cioè il fatto che la nostra offerta sia di altissimo livello che la domanda questa offerta la riconosca cioè i turisti sanno che nei nostri territori c'è altissima qualità di prodotto e che allo stesso tempo nella realtà dei fatti ci sia un'offerta altamente variegata questo è importantissimo perché ripeto tutte le cantine sono in grado di poter offrire esperienze diverse dall'altra parte le debolezze del territorio della destinazione e alcune volte degli operatori è proprio quella di lunghissimi tempi di risposta e se io perdo un giorno a rispondere due giorni il cliente ha già trovato un'altra cantina non ci mette niente non c'è purtroppo una conoscenza del settore del mondo web molto spesso elevata e questo cozza tantissimo invece con la domanda e di conseguenza molto spesso non c'è neanche una conoscenza altamente specializzata nei confronti del tipo di turista abbiamo detto prima turisti anglofoni nord europei o nord del sud-est asiatico queste tre realtà hanno tre approcci totalmente diversi e quando noi chiediamo delle persone che parlino quella lingua non è che lo chiediamo soltanto perché si possono far capire meglio e fanno risparmiare il fatto che ci sia un traduttore ma perché sanno come quella clientela si sta approcciando alla destinazione e quindi sanno come potersi comportare tra le opportunità evidentemente un mercato con altissimo potenziale di sviluppo e soprattutto questa è un'altra cosa che le istituzioni invece tornando al discorso di prima dovrebbero capire sono le opportunità di lavoro parlando con altri relatori in altri eventi un tempo fa sentivo dei numeri pazzeschi in Italia ci sono circa 80.000 tra produttori privati consorsi società agricole che producono vino 80.000 realtà che producono vino di queste meno molto meno della metà stiamo parlando di circa 15.000 sono disponibili ad accettare le persone in cantina e di queste meno della metà hanno persone che si occupano di turismo e di ospitalità in cantina quindi le opportunità sono enormi dall'altra parte però i competitor sono devastanti io ieri ho prenotato ho costruito per me un viaggio per andare a trovare delle cantine nella zona del Bordeaux nel giro di due ore ho avuto tutto risposte informazioni o altro stesso discorso vale in Cile in Australia questo è un problema perché nel momento in cui le persone capiscono che all'estero comunque si produce buon vino perché alla fine la realtà dei fatti è questa noi siamo dei grandissimi produttori di vino ma non siamo gli unici quindi anche questa cosa è da dire bisogna sbrigarsi chiudo la mia presentazione semplicemente chiudendo il cerchio perché come vedete qui ci sono io nel mio team chiaramente come cofondatore c'è Dennis che è la persona responsabile della parte web abbiamo ovviamente tutti e due siamo appassionati più che esperti di vino c'è Giulia che invece è la sommelier del gruppo quindi è colei che è esperta nell'ambito del mondo vitivinicolo e poi abbiamo Emanuele che è quella famosa persona di cui facevo riferimento all'inizio che era quella che mi aveva suggerito la cantina in Napavalli che adesso è professore all'Università di Chicago e stiamo ampliando il nostro il nostro bordo con persone che sono basate in Cina e in Germania proprio perché insomma questa è la dimensione più importante bisogna valorizzare tutto quello che abbiamo nel nostro territorio con un'ottica però che sia aperta a livello internazionale perché altrimenti i competitor ci mangiano bene Molte grazie Stefano per il tuo bel racconto della tua testimonianza di come a partire da una passione si condividono le passioni con i turisti e quindi si consente ai turisti di poter viaggiare facendo del turismo così come quello che ci hai raccontato e allora apriamo le domande incomincio a dare la parola a Marina Celli poi c'è Michelle Smith e poi Franco Fiorentini in ordine di prenotazione quindi a te Marina la parola buonasera ci ascolti Marina e allora andiamo Marina poi se si collega possiamo sentirla dopo Michelle Smith buonasera prego la domanda guardavo con attenzione ho visto che sul vostro sito fate prenotazione su richiesta non trovo che dove chiedere una richiesta lungo quei tempi è discentiva proprio il turista specialmente oggi quando possono andare su Airbnb Experience e avere una prenotazione immediata sì assolutamente sì è voluta questa cosa da una parte tendenzialmente il prima di tutto passo indietro il nostro il turista che sta che sta visitando Windering non è lo stesso che sta visitando Airbnb per questo ci tengo molto perché sono dei clienti diversi o comunque sono delle persone che hanno delle esigenze diverse dall'altra parte la cosa che per me è molto importante è che noi siamo partiti per dare sistemi di prenotazione diretta il portale è pronto per questo non lo sono le cantine quindi molto spesso se voi vedete in alcune in alcune situazioni quello che succede è che se si prova a fare una prenotazione in cantina il sistema in automatico manda la richiesta di disponibilità alla cantina alla persona che è registrata come fornitore arriva un messaggio sul telefono whatsapp chiamata e email quindi nel giro di mezz'ora il cliente ha la risposta non lo facciamo perché fondamentalmente ripeto lavorando con tantissime cantine non è detto che tutte abbiano questa famosa hospitality manager che poi è disposto ad essere aperto o comunque a garantire la propria disponibilità e soprattutto ultimo elemento per me molto importante vogliamo dare la certezza che quell'esperienza sia stata confermata da parte della cantina e che quel winemaker in quel caso sia presente molto spesso ci è capitato all'inizio che gestendo un sistema di prenotazioni online noi avevamo anche delle persone che prenotavano direttamente pagavano e poi non si presentavano la cantina non aveva la persona e quindi per carità noi effettuiamo il pagamento alla cantina però è comunque un cliente che poi ad esempio non acquista vino o altro in questo caso questo passaggio in più che è molto breve lo facciamo appositamente dall'altra parte chiaramente il sistema è già pronto per permettere anche quello bene Stefano qui piovono domande che poi adesso ti giro 4 o 5 che hanno scritto perché evidentemente hanno problemi di audio io do la parola a Franco Fiorentini invece che dovrebbe essere collegato buonasera buongiorno mi sentite prego io sono una guida ambientale naturalistica allora stavo appunto mi stavo seguendo cercavo di capire come potrei sviluppare un'attività relativa appunto a questo a questo settore l'abito a Verona la zona della Valpolicella c'è già qualcuno che allora grazie per la domanda un attimo un attimo così ti passo le domande così guadagniamo tempo ringrazio Franco e se ci sono un altro paio di persone che possono intervenire un'altra domanda è questa voglio dire da parte di Vigilio Cardarelli storie di successo se puoi raccontarci qualcosa in tal senso relative alla visita di cantine in tema di mobilità sostenibile e di accessibilità per disabili anche c'è un'altra domanda e poi se pacchetti esperienziali multipli così questo Antonio Cantarella chiedeva sono vendibili al cliente o se creano confusione poi c'è un altro pacchetto di risposte se c'è qualcun altro che vuole intervenire abbiamo un altro paio di minuti per poter darvi spazio grazie allora parto da Franco dalla guida per Verona noi stiamo lavorando con alcune realtà sia cantine direttamente registrate sia un paio di realtà di tour operator in realtà noi siamo sempre alla ricerca questo perché da una parte la piattaforma online B2C permette di effettuare le prenotazioni quindi se se una guida se una persona che è appassionata di vino o che in questo caso ad esempio è una guida ambientale ha una particolare idea mi viene in mente il perché determinati territori permettono di produrre certi vini nella zona del Veneto sto dicendo una cosa ripeto casuale giustificare un'esperienza che sia giustificare motivare la costruzione di un itinerario che sia vai dal punto di vista può essere molto importante quindi assolutamente sì aperti a collaborazioni di tutti i tipi 100% dall'altra parte altro motivo per il quale siamo aperti a collaborazioni è che la nostra realtà lavora anche B2B a tutti gli effetti come tour operator stiamo lavorando anche con itinerari ad hoc tailor made costruiti per operatori stranieri dove abbiamo bisogno anche di costruire insieme con le persone ambientali delle esperienze delle realtà particolari altamente focalizzate sul mondo wine come sempre ciò detto e mi ricollego poi alla domanda invece finale sui pacchetti esperienziali multipli proprio per questo target di clientela quindi per il tour per retro soprattutto stranieri con i quali stiamo lavorando per creare dei wine tour in Italia alcuni sono già pronti li stiamo veicolando alcuni sono in fase di costruzione anche per il 2020 chiaramente sono ben sono vendibili assolutamente purché abbiano un filologico ripeto noi ad esempio un tour che stiamo facendo che abbiamo costruito in nord Italia è un tour di della quarta un tour delle cantine di ristoranti e di produttori under 30 volevamo dimostrare con questo tour che ci sono delle cantine di quarta e quinta generazione da Milano a Franciacorta a Verona al Trentino in cui ci sono delle generazioni nuove che si stanno lanciando sul mercato dando quella loro impronta moderna stesso discorso però vale per esperienze appunto multiple quindi ad esempio in altri luoghi ristoranti di giovani chef under 30 appunto o altre esperienze di questo tipo purtroppo invece su storie di successo legato a vista in cantina disabili non ne ho molte anche perché quando una cantina da noi si registra ad esempio online deve inserire se è aperta o se è una sorta di autocertificazione se è agibile per clientela disabili con disabilità chiaramente soprattutto motoria molte cantine non non mettono il flag non mettono la bandiera su questa voce però ad esempio io un'esperienza che ho fatto personale dove ho anche dato banalmente una ho fatto una bella chiacchierata e in quel caso anche mi faceva riferimento come la struttura fosse costruita ad hoc anche per clientela disabile è una cantina in Valdosta che tutti voi conoscerete credo che è l'Ecret noi l'abbiamo visitata l'anno scorso a gennaio e questa cantina meravigliosa dal punto di vista architettonico aveva anche quest'ottica qui quindi di costruzione per in questo caso gruppi ad esempio anche di disabili però assolutamente è una cosa che ci interessa quindi anche qui se ci sono degli esempi o delle altre possibilità per costruire i miei riferimenti ce li avete e lavoriamo senza problemi perfetto le ultime due o tre domande che una parte poi già risposto cioè come è possibile collaborare con il vostro portale se non si è né cantina né turo peretto ma semplici comunicatori ce lo chiede Claudio che ha un blog di destinazione e quindi potrebbe essere utile per creare una rete di soggetti interessati ci chiede e poi ancora c'è Marco Punzi che chiede qual è la strategia su quali strategie di vendita online si basa Windering una ricerca organica un pay per click facebook adb e poi ultimo Michelle Smith che è intervenuta prima ha scritto che ha pubblicato un white paper in italiano e quindi se è interessata poi ce lo manda colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti voi che penso Stefano abbia nessuna difficoltà poi ad inviarvi le slide che abbiamo condiviso quest'oggi in modo tale che poi possiate riprendere e soprattutto avere diciamo Windering come punto di riferimento con le ultime informazioni che vedete qui sia del sito che della posta elettronica che del cellulare di Stefano per interagire e fare vente perché questo è un po' il nostro obiettivo allora Stefano a te l'ultima replica a queste ultime risposte e poi ci salutiamo ok parto da Michelle a studente sì sono molto interessato quindi qui ci sono i miei riferimenti vedete sia l'e-mail dove rispondo io e il mio cellulare quindi se non mi rispondo scrivetemi e poi mi riattivo immediatamente per quanto riguarda blog di destinazioni assolutamente sì nel senso che soprattutto il mio socio Dennis che è l'esperto web si sta già muovendo per chiaramente studiare insieme in realtà come questa appunto possibilmente i blog di destinazioni per poter lavorare in sinergia io da questo punto di vista sono meno esperto scambi click blog articoli certo è che ci interessa moltissimo lo stiamo portando avanti quindi anche in questo caso va benissimo poterci attivare per poter avere in mente del del materiale noi una cosa che stiamo pensando ad esempio ma purtroppo non c'è il tempo da parte nostra nel far tutto era proprio questo cioè di mettere in rete tutti questi blog di destinazioni ma anche blog del vino chiaramente ce ne sono tantissime in tutto il mondo per poter condividere le proprie esperienze quindi sì anzi se ci chiedi mandato un'email bene perché così la portiamo avanti stesso discorso del riferimento a Dennis per quanto riguarda le vendite online anche se qui intervengo più tranquillamente nel senso che ci stiamo muovendo a 360 gradi mi spiego meglio tutto questo progetto di start up piattaforma virtual operator è attivo da tre anni è agli inizi stiamo investendo tutto quello che possiamo perché troviamo moltissimo in questo progetto chiaramente stiamo attivando vendite tramite ricerca organica pay per click stiamo per riattivare facebook page come adv perché abbiamo visto che genera molti contatti utili noi in questo momento stiamo avendo un database molto molto interessante di utenti appassionati che quindi sono disposti a seguirci e questo ci fa molto piacere chiaramente abbiamo dovuto in questi mesi indirizzare le nostre campagne quindi ad esempio da marzo in poi abbiamo lavorato molto per aumentare le vendite adesso stiamo lavorando sui contenuti quindi a questo 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 doppio canale insomma però stiamo lavorando anche molto offline quindi questa realtà appunto di partecipazione ad esempio a fiere B2B ci permettono di avere una fetta di mercato interessante ecco va bene io direi che siamo in nei tempi perfettamente e allora io ringrazio Stefano per la chiacchierata di oggi penso che siano emersi spunti interessanti per chi si vuole occupare di enoturismo in Italia ricordo che Stefano sarà partecipa come molti di noi alla borsa dell'incoming del turismo esperienziale che si terrà il 19 20 e 21 a Venezia ed è proprio il 21 novembre che terremo il prossimo webinar nei prossimi giorni avrete la comunicazione che vorrà partecipare su uno dei dei 15 workshop che presentiamo in occasione appunto di questo importante appuntamento a Venezia e allora ancora grazie a tutti rinnovo penso grazie a tutti da parte vostra a Stefano che saluto grazie mille per qualsiasi informazione avete i miei dettagli i miei dati i miei numeri senza problemi perfetto la presentazione poi la invieremo per post elettronica a tutti quanti voi che avete partecipato grazie ancora buona serata e in bocca al lupo a Windering per il suo lavoro e la passione che ci mette per realizzarlo arrivederci ciao Stefano grazie ciao grazie a tutti